A lasciarci dietro la città per un weekend di libertà non eravamo solo noi ma il ronron ipnotico che fa il mio motore quando va forse il sogno d'essere soli al mondo col crepuscolo per sfondo ci portò Marco accese un'altra sigaretta poi il taclung d'una cassetta e quel flauto incominciò Anna disse in fondo chi lo sa guardate quelle case là Anna Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.